Ciao a tutti, in questo video parliamo di un tema che più che altro interesserà a chi è che vuole scrivere libri e quindi come convertire Markdown in ebook, epub oppure pdf e questo argomento diciamo che è un qualcosa di non particolarmente complicato però in passato ho fatto diversi tentativi con diversi software ma credo che finalmente ho trovato il setup giusto per fare questo tipo di cose. Ok, prima di iniziare io sono Luigi e in questo canale parlo di argomenti di tecnologia ma di tecnologia che tu puoi controllare, puoi iscriverti al canale e attivare la campanellina per ricevere i nuovi video oppure puoi seguirmi su telegram, te consapevole per quanto riguarda gli aggiornamenti di tecnologia e te consapevole cripto per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle criptovalute. E se proprio ti piacciono i miei contenuti ti consiglio di dare uno sguardo anche agli approfondimenti che faccio su Te Consapevole Academy che non sono sempre video che interessano molto a YouTube. Ok, vediamo un po' qual è la situazione. Questo qui è il codice Markdown che è una sorta di HTML semplificato più semplice da gestire per quanto riguarda la scrittura e qui abbiamo l'ebook pdf generato e l'e-pub, l'ebook appunto in formato e-pub generato qui in basso e poi abbiamo, vabbè, gli indici, cose abbastanza normali per quanto riguarda i libri. Quindi se scrolliamo possiamo vedere che qua ci sono le pagine e qua appunto le pagine vengono gestite in modo dinamico a seconda della disposizione dell'ebook e della quantità di schermo a disposizione. E quindi quello che vi voglio far vedere è come avviene questo tipo di modifica. Questo progetto ho trovato un template su GitHub che funziona abbastanza per il caso mio e vi lascio il link in descrizione. si chiama Pandoc Book Template, comunque vi lascio il link in descrizione. Tuttavia per quello che volevo fare io ho dovuto fare alcune modifiche che vi farò vedere come funzionano. Per esempio se al posto di questo to-do voglio mettere un emoji, salvo, e a questo punto dando il comando make, vengono rigenerati in automatico sia il pdf e sia l'ebook. Poi vi farò vedere anche come viene gestito questo comando. Ok? Qui sta finendo di generare il pdf e come vedete mi ha sostituito to-do con il cuoricino. Quindi funziona anche gli emoji nei pdf, cose che non sempre funzionano con con gli altri software. Per quanto riguarda le pub faccio ricarica e anche qua come vedete il cuoricino qua viene preso anche con il colore rosso quindi funziona. E poi ovviamente ci sono per esempio i link, quindi è possibile mettere un link all'interno delle pub o del pdf e questa cosa funziona appunto in entrambi i casi. Appunto questo qui è il setup che ho utilizzato per il libro che sto scrivendo che è finanza decentralizzata per deficienti, tutto quello che vi serve sapere per investimenti su blockchain e rendite passive. Ok, questo è quello che vi volevo far vedere. Qui sul makefile in realtà le cose sembrano complicate ma non lo sono affatto. Quindi per l'epub il comando che viene utilizzato è questo pandoc che è questo, che appunto è quello che trovate nel progetto che vi linko su github. E questi qua sono i parametri che permettono di generare il file in formato epub. Dopodiché non uso pandoc per generare il file pdf ma uso il tool che viene messo a disposizione da Calibre che è un altro software che viene utilizzato per gestire i libri e quindi semplicemente converto il file epub in pdf e i risultati sono quelli che abbiamo visto. Quindi la possibilità di avere il sorgente in markdown e in automatico gestire entrambi i formati appunto pdf ma prima formato epub che è quello diciamo più simile all'html. E che dire, questo è tutto. Tra l'altro se vi interessa guardate anche questo mio video dove vi faccio vedere come fare un video trasparente che serve più che altro per aggiungere degli effetti o delle cose carine ai vostri video. E purtroppo questo video youtube non gli è piaciuto e qui in basso a destra invece trovate lì il video che vi consiglia youtube. Ed è tutto. Ciao a tutti, ci vediamo in un altro video e like se vi è piaciuto questo video.